Sono d'accordo con Marca? Se metti Benzema, è una follia metterlo lì. Io direi né mané né salà perché quest'anno la Coppa d'Africa non hanno fatto bene. È vero, se dobbiamo contare anche quello, certo. Se dobbiamo contare anche quello, quei due non hanno fatto bene. Io vi dico che nei prossimi... ...abbia chi non sia per me, De Litt non è da pallone d'oro, scusate. Non è da migliori 30. No, non è da migliori 30 perché quest'anno ha fatto bene De Litt. Io sono d'accordo con te su quest'anno. Sì che ha fatto bene con l'Ajax. Da gennaio. Non devi guardare l'Ajax adesso. Ma poi se lo chiedi... Lei ha fatto le vacanze. Perché due, quindi è voglia. No, Marica, per piacere. Ma le ha già vinti con Marocco. Andiamo avanti. Secondo me, ripeto, sul fatto che... Mondo, cioè mettere in discussione... Alessandro Cuglio... Non dimentichiamoci, Paquietà, che lo scorso anno insieme a Pionte che... Ma c***o che il Borussia almeno so... Però adesso, secondo me, la difesa dell'Inter è anche supportata da un buon centrocampo. Perché ieri abbiamo visto Brozovic con Barella che comunque hanno fatto bene là in mezzo al campo. Quindi, oddio, l'assenza di sensi in questo senso è stata meno dolorosa di quanto ci aspettavamo. Però, ecco, abbiamo questo centrocampo che riesce a fare un po' da filtro, cosa che invece l'anno scorso faceva fatica l'Inter sotto questo punto di vista perché non c'era un centrocampo solido. Quindi, in questo caso, l'Inter, secondo me, è avvantaggiata, anche se è un po' in difesa a Scricchiola, però ha un centrocampo più forte rispetto allo scorso anno. Allora, secondo Sergio, invece... Ma è Mertens, lui parla spesso di Mertens, prima di andare a letto. Non era da pallone d'oro tra dieci anni, scusatemi. Però chi è lì... Stiamo parlando adesso, in tempo reale, secondo me, non è ancora da pallone d'oro, dell'It, scusate. A me, ma non è vincente. I primi 30 ci sta, secondo me. Scusate. Se noi andiamo a vedere... Ma comunque con la sua impostazione riesce in po'. Sono difficili a... Mi ricollego al discorso che... Da meno 25 rispetto alla Juve, non è che...